allora quello che mi mostra è una barca di legno in mezzo al mare cosa mi tra finiano è un'altra cosa lei ed è a distanza e vorrebbe fermare questa barca ancorarla a distanza dalla riva a distanza dalla barca non ha capito cosa si a distanza dalla barca ma io sa che sta molto corso il costato il ciò vediamo sacco sfida stanta mutca dall'autorizzazione ciò che posso fare nella stessa si mi fa vedere come impossibilità essendo in alto mare a ad ancorare la nave da dai dai posso farla nero e non c'è che abbiamo visto come un po che mostro negli anni e stagione sacco a triccio di da sotto e che costa con la cosa testa ok come la vedi di una via che vi piacevano e agitata preoccupata spaventata da possibili nemici i vista capo di strasso ma boi se możliwe vrogo volevo rassicurarla che tra noi c'è un rapporto tranquillo disteso non ci sono problemi fra me lei il fai uspacoi monica monica che mi insegniamo monica unima giorni problemi sono usato nei fracosti vibrazione gli ha preso vibrazia iphone a 2 miliardi famigliard consapevolezza poi ci fanno mostri 118 per cento stavo c'è una stia però tanto ps pro tanto avevo già autosso 38 per cento suggestiva sempre tanto fare stato cervello però tanto giovanna con musco sei mezzo c'è tipo protenta ok il buon maggio ha fatto una sessione con me sa benissimo in eterico che cos'è una frequenza i fanno a spazio da noi non fessi e vi è stato est vibrazia trasportivo al di là del fatto che avrà sicuramente delle interferenze adesso le chiediamo di alzare da solo la sua frequenza maia che stanno interferenze attraverso la prossima per samas think shawater i brazi un pochettino riesce a farlo però si fa prendere un po dall'ansia dall'agitazione dalla paura di non farci troppo trafitto troppo ha paura di fare qualcosa che abbia l'effetto contrario poi c'è troppo proviamo a quanto sta adesso la sprovo in mea cari starasi vibrazia è arrivata fino a 5 in total vado a pieno miliardo ha raggiunto l'effetto contrario no la san grava risultati un suo pensiero costante di fare la cosa sbagliata e di ottenere il contrario di quello che lei vuole ottenere alla testa che bastava messe i cuofi e che dovrà risolta adotta con alzato una volta la sua frequenza che ho lasciato grazie ed è a 5 e strass pieni minato guarda velocemente monica dire di alzarla altre quattro volte e dimmi semplicemente le quattro frequenze che vedi e niente la sesta rasta poteva sottombre grazie in città la rasa risa carto brasa la nostra strada grazie poverti monica la bandietà che apprezzano ci va intanto la vedo felice che gli stai dando questa fiducia vita e vedo che si sente un po più rassicurata si sente che intorno a sé a delle persone non nemiche della storia cittadini e perni e poi usava con sede ma nemmavrò che sapevo sub quindi da 5 passa 8 3 o ster pieno miliardo potenze vibrazia d'osmio a 15 ma tanto più costo 22 e potendo la tua gesto 2 miliardo ancora uno poi a spara e no un attimo non sta venendo il respiro affannato ma inizia troppo e corta ma manciamoci iniziata tronati dice legge sa ho nato una cosa che per acoglietta come c'è questa prova avevo chiesto cinque incrementi questi sono quattro testa piante sono svibrati stare dopo i pori e ha bisogno ancora un attimino questo posto voi e fili mi chiede se possiamo iniziare e poi dopo procederà nell'alzare le vibrazioni perché ancora un po di diffidenza è come se questa diffidenza le impedisse di alzare ancora un po le frequenze questa animata che tra cofetti per nostri tagli e posso fare in adesso poter sognate che i brazi allora adesso cerca la sua diffidenza mi dici dove la trova e come si presenta la diffidenza la terra stampa che stavo fagna che già non c'è sbagliato e tre messo in campo c'è l'emozionale me la fa vedere sotto lo stomaco e come se fosse nata da sotto lo stomaco però si è propagata verso la zona genitale e fin sopra petto e gola questo è un cancello ma un gate probabilmente la sua modalità questa vorrebbe lo so che è un po presto però i disincarnati pensa che la possano aiutare lei mi dice tutta cazzo che sia da stranevano va sotto smargo l'ho creato un prossimo la totale per test ma manca la base della buona riuscita di una sessione è la fiducia e questa fiducia ci deve essere al cento per cento portavano per stessi scelta valista ufani e in uscita usano fa neve ci sto però tanto va gli ho chiesto di alzare cinque volte la frequenza l'ha fatto quattro volte deve alzarlo la quinta volta da vincere a prossimo avevamo a testo in che sono i brazzi e pinciaclottino l'abbiamo a tacitare rase c'è la spazio fasciata un vibrazio che può pieni sfuggire sto miliardo da ieri un po dovesse ha fatto quattro volte quindi lo so fare se non lo fa la quinta è una sorta di rispetto o di sfida sbaglia via la evidenza apro votare definitivo la raccoglie la butta dentro e alza l'ultima volta la frequenza o su va mezzavanti a una volta c'era ma porta al frutta me tanto autogeni per nostri neofnosci in ecco diversa vibrazia la serta vedo che pensa un po al papà perché secondo me a origine di questa diffidenza anche il rapporto con il papà vittorio messe trastos fai moito il giro durante copra cosa ufani a raccoglie i relazioni sapendo che riuscirà a risolvere anche questa problematica con il papà arriva a 35 miliardi in via rosa abbiamo già tanto la nostra nazione solita tosh anche in effetti le tolge da vibrazio 16 miliardo va bene vediamo le entità e terri che che sono tornate cosa faccio mai state interferonze e terracina anzi dimmi quando sono tornate se sono tornate e appunto questa c'era già questa è andata via ma è tornata quando in occasione di torre avruccio e via che io casi cioè che io casi io sento che questa diffidenza ne l'aveva conservata tipo da metà sessioni poi l'era venuto un senso di diffidenza vedo stampa con osce poi a versioni spogliere stessi e poi dopo la sessione di rovina spostarsi che piersi la stessa la precedente parliamo non abbiamo della sessione precedente si allora quello che io vedo è prima che mi fa vedere secondo me è nuovo è una iena in cani de la casa nova interferenza e poi a più asce io sto una sergine attraverso fatica c'è una piena perché questa iena che ridacchiano alle sue spalle no vai stata i totani sei prezzami ricorda smettoni un qualcosa cioè in occasione di uno sternuto quando una volta si è sentita triste quando ho fatto un viaggio quando è caduta dalle scale c'è che ocasi trattano c'è la sua volta ma mancettano fai stato mi fa vedere che poco dopo la sessione che poteva essere 12 settimane dopo la sessione questa iena si affacciava e poi si ritirava sia che cittadina poteva possessi tacchina da trovo c'è poi la faccia potenza per trovare per poi stare in maniera più stabile ha appunti sa che stava scelta che non stava valsa che è stata andata per noi poi da lei secondo me dinosauro o comunque rettile c'era già e anche felinoide che io qua vedo sotto forma di tigre c'era già il bel terza che si fa lino it monica vede tutta e grassa cattura rovnias per tasnei usi poi e poi vedo sembra un'immagine sacra quindi questa figura con la tunica e le braccia aperte evitare come si stacano un posto c'è che si cura fatto inizia risolta che mia torta mi era mio nomi andromeda mi dice viene da andromeda muovete apposta già più super fast andromeda mi vede che sono e a questo filone sono legate le molteplici abduction che si dice istante poi andromeda nina ma związana sono le czna uprovadziani a których doświadcza iwona quanti sono il provadzani allora erano parecchi prima che facesse la prima sessione sono diminuite e poi riprese dopo tre mesi tipo dopo tre mesi dalla sessione attualmente una alla settimana a volte due alla settimana obiettivo di più secondo me anche tre focole concorre che stessi a volte quattro cassa mister le entità e teori che compresi dl sono finite c'è il suo papà come disincarnato io sto per scelitata con sbarrò in potenza più a noi no non è attaccato vedo che gira per casa e è legato molto al terreno di cui lei ha accennato mi ha spostato nepporto nepportiamo alle cronze tampone domi ma testa interna ancora con il stagio contro con il stagio stagio questo non lo vende perché lui non vuole citata con il stagio che poi ne fa oggi sta con il tra vedo che si siede sopra e dice questo è mio non si tocca vita soltata lasciata sapetano che su test ma io te cosigni russo ok i stati c'è testa vedo che fanno tipo un giro tondo come a volerla circondare non so come spiegarti come tenersi per mano sono quattro vettacenta con cronzeo cronzeo che si chiamava renza renza e stampa con i star ok entità mentali l'altra volta sono state viste nel vecchio metodo con la vecchia collaboratrice che non vede tali che ne affetta estate mentale c'è forza di stasi bovigiana scopso di altra patca ma tutto mi raccomando poi ne va stampate la patca ne vedeva i stati mentale ovviamente no ogni poverigiana il l'est che sta sabato mia risultano tre vediamo la casa faccio la più alta ottena inizio e poi siamo andate nei versi allora la prima è il livello 3 piaccia è stata troppo già me lo chiama gola guardo ed è tutto ciò che riguarda questa zona qua quindi la sua difficoltà per esempio a sintetizzare i concetti il suo sentirsi a volte quasi stretta alla gola per le emozioni che prova paeta che c'è 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 scavo i garduos mozzi che non trova a volte un effetto strano nel deglutire le cose attrazione che sta che giro non tutto c'è che poi capo cibi emozioni situazioni sarò una poca armi a che mozzi è stato azia con la tante seconda droga è stata mentalna me la dà come calorifero numero 5 e livello 5 non ma poi c'è un piante il nas fa calore far che legge era 19 gradi questo inverno non ti ho sentito la sua scusa siete gli a 19 gradi questo inverno che c'è la crisi energetica mi raccomando non c'è cosa sono anche a tecno artesimo quindi questo calorifero è come se la facesse surriscaldare in determinate condizioni e davanti a persone e le ragiona più di ecco ten calorifero spazio nasa bordo c'ero scusa va tratta di temperatura situazione che c'è la testa raggiunge un livello di chiamiamola così surriscaldamento per effetto delle emozioni delle parole che in che ascolta gli uova istacro scusano altri emoti però spavoto di froschi soft e le perde un po il controllo diciamo così della situazione io ho notato le tracce contro la situazione terza cioè c'è stata mental ma sette posiamo sud me mi fa vedere come una specie di di vortice che risucchia caso riesce a portare che questo tipo vi ructore cionghi ed è quell'entità mentale che le porta ai pensieri suicidi e stai strata cattura provato io unita mesi siamo bocca e vede che è anche questo movimento di vortice è anche quello che lei prova quando subisce la black shone e tra l'altro teco si ruota io sto facciamo un progetto riconosciuto straccio provato in riso provata ma la cosa particolare è che lei in questa abduction prova un sentimento ambivalente doppio quindi da un lato viene indebolita per effetto degli esperimenti però dall'altro lato è come se si fosse affezionata ai suoi carnefici gli senti quasi come affini all'altro che strano e tu adorano sempati ha dato il caricato c'è tipo quella sindrome in cui era rapita si esatto si innamora del suo rapitore no sembra uno stato con scritto c'è noterà proposto impianti ii a che sono implante l'impianto mentale che mi fa vedere è una fascia abbastanza larga che prende la fronte e la testa e sti in plant mental nevoco cuovo e questa cavo pasca tutta la prima volta unico va e in questa fascia in zona centrale c'è come una una placca che fa parte sempre dell'impianto mentale il centro un tanto cosa la monica questa capo e tocca tanto un peco in plant aumenta un nego poi cerca in quasi tutta la parte sinistra del corpo fra che tavola la strana ciava e la gola guardo e mi fa vedere sia l'apparato genitale urinario ma anche la zona anale euro che sposa emica in italia o quattro mi mostra quasi come dei che durante le abduction le vengono fatte dei clisteri chiamiamoli così che hanno l'effetto di andarle a disturbare tutto diciamo così l'apparato genitale e moltissimo urinario ma anche intestinale per l'evacuazione l'evacuazione sia quella liquida che quella solida per intenderci sono fastidiosi e per lei veda l'ania sarò fanno poi notte a chi stava mento fiasa parto nips e americani e la mano destra mi fa vedere come impianto e qualcosa in plant sprava i tuoni in questo momento ha un dolore che io fanno a testa ma mangiata che vola vorrei potuto frenza proprio visto brava pierce leva la fa pierce pierce ceramie pierce se no piano sinistro causa esoterica del dolore fastidio perché l'abbiamo individuato abbiamo individuato tutta la parte sinistra quindi sta rispondendo al fatto che noi l'abbiamo individuato testa cairaccia dopo avvicinato ma l'esercizio ma tanto in planta sono fasolissima che ci sono altri ciascuno in planta questi che ho detto niente il 4 o le mini rischia molto curioso della tua risposta nome del progetto stampata ccaf tra sacca patinato pietania bush mia che è questa nostra proietto subalterni tà che vuol dire è l'essere subalterno essere ah ok poteta potenzo 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 si facciamo riproposco tube sotto ok va bene l'hanno deciso quali qual è il capo delle entità entità mentali o eteriche che ha deciso questo progetto cattore stefluschi e femminione che sta tutta e mentre una quantità regione cosa ha detto dove c'è questo trasciata e allora quando sta facendo vedere appunto il filinoide tigre a casa rimetto traete cotte credo che cosa ne fa l'inità però vedo zeus ancora più sopra e e poi importante proprio questo gruppo di andromediani mattane farina i temi testo se us è nata ma sbagli sono tutti andromedani rovni differenze tra noi e gli altri che fanno questo lavoro rosni zanami ha in nemico sarò che come non cansa montata per esempio alla subalternità niente ne metà poteta potente gli altri capiscono che il problema sono le entità e le inseguono cercando di eliminarli e ne va sarà un problema sono in stato di stare a scegliere le minovac e con gli altri inserisco anche me stesso con la visione del passato in movenza in montagna mesi scebbi ma siccome io sono la ricerca solo della verità e costantemente ma le pogni versi a stangue un po so che vanno prato e fondamentalmente non me ne frega niente di questo di quell'altro e ma ne approcita oltre tanto oggi abbiamo scoperto una grande cosa dice che riesce a spazio forno con questo nuovo metodo non oggi 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 metto 3 a 9 metodo anni oggi sei giudici che il progetto subalternità non l'ha voluto nessuno al di fuori di nivona razzarata in proiettini box ciannets ni coco cosa fanno io fanno solo lei per con alza mate corcia quando diciamo questa cosa in teoria l'entità eteriche mentali dovrebbero vedere aprirsi una botola sotto i loro piedi e scomparire dentro la botola io sono già trattato il comodo o tracota e movimenti che è stata mentali e taricina po finita che stanno con leggiore che si fa forza fai mista pamita scoperti fregati hot creci l'illusione è stata scoperchiata non esistete non ci siete salata il uso è stato creta c'è solo ivona che può decidere se andare avanti con questa finzione o se chiudere il gioco di ester coi vanno attraverso da facci da lei può non so me tantra con banca molto città cesame come conti amata un gra e questa rivelazione che vale tanto quanto pesa in oro e trattato abbia vienito resta parte della parte di svuoto è tanto oro quanto peso per te la casa tre svolta sotto gliela offrono delle persone di cui lei aveva diffidenza terra se lo farò io metto tra la sua volta fischietta la sua peccatura un dottore che trovai a conta con il scopertone per noi braggio fania a queste parole cosa vedi monica so vedi questa mia sua famiglia mi fa vedere questa sua alternanza tra la subalternità e la diffidenza e che sta capendo adesso questa è una stessa cosa cosa mi metto per nester una tenta che fa un fanno altro che da un po tanto e si può conseguito voglia di tassano giusto mi fa vedere com'è stata subalterna durante tutte queste abduction poca sui miei gruppo a che mi sta che non si può trovare non può portano come si traccia ho provato a me mi fa vedere la sua dipendenza anche rispetto al marito per esempio che la deve accompagnare in bagno lei che non può stare da sola a caso limiter fai un salato su di mangiata la scuola torre torna più su quattro musiche mi ha visto la gente poi la zona fa ma se voi subalternità perché non può stare nel silenzio di se stessa deve sempre sentire suoni o altre persone presenti tutta capo tanto stagna ma c'è di ci sotto come si c'è anche da cosa non mi fa vedere come diffida in un certo senso di chi la vuole liberare da tutto questo è per questo che l'ha espresso la paura che noi vogliamo separarla dal marito ma noi non vogliamo separarla dal marito tagliate con opton cofra giuata tanta che sui sono bava giusto membro giri smesso ammetto tappo tenere con il trame troppo troppo ci noi vogliamo solo che lei si renda conto di qual è il suo potere di donna che crea la vita messa me che teneva un'altra volta per sprava la comma mozze coppia tattura crau e sfiora già va bene monica un po di cause esoteriche rapida sequenza causa del terreno sate risa che il problema giramento di testa la sua frate cuova impianto mentale danni implanta una croma venis ma macchiolina nell'occhio e planca si io dico che è sempre un effetto secondario dell'impianto mentale presa cosa che bocciano a fracca con implanto mancanaco acufine e il suono di una nave pesca e fossa come più ai tanti l'ex stato con cos'è c'è una cittura scorso è quel ricordo delle abduction che rimane impresso e che ogni tanto si ripresenta pesa che fa mince coprova zaini che c'è stata ma come poi si era un sacco camina in scena che c'è questo che la cuffie ne si rischiavo so che la recente costa cota tiroide problem start to town allora sia l'impianto eterico sia la l'entità mentale scuola sarò in plant e terreno e trattamento a me cartuaglia chi ita è stata menta nostra ciotico posiamo un buono svegato gambe e soprattutto la sinistra problema con il minimo cammino l'ho detto l'impianto è in quasi tutta la parte sinistra del corpo e diciamo così per effetto di bilanciamento sente a volte anche la gamba destra danni in altri movimenti a stella vittoria si ciava altro che strana sapete che cosa sbalanza faneate con problemi colonna vertebrale problemi frango su pam allora allora io ho detto che il padre è soprattutto presente nel terreno disincarnato ma perché cos'è spagna la strada nei oi ciauti però in qualche modo riesce a far sentire i suoi effetti la sua presenza proprio sulla schiena di della nostra amica alleggo che una proposta da me non posso metterla io sto trovando farsene una cosa mia pletho ok mi dita ci senti bene sì 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 ritenzione idrica sassi una vani a foto e falconismi così come ci sono questi clisteri nelle abduction diciamo così anali vedo anche che ci sono degli attrezzi sempre simili ai clisteri che però e vengono effettuati sulla gamba sinistra stassi invece di smettere che trattate allevate no praticamente con quattro fatale che ho alla vita una posa materino vita e hanno delle ripercussioni un po generali su tutto il corpo questo gonfiore io lo vedo un po diffuso viso compresa viso e ho proprio specificamente una falsa e ci stava qualità 8 problemi di peso problema il dragon allora io lo collego un po a l'origine delle sue emozioni che abbiamo detto che è partita dallo stomaco mi fa vedere proprio queste emozioni nascoste dietro lo stomaco che vanno a creare proprio dei problemi di assimilazione di digestione via che sta che ho credo negato nelle mozze tampo con il tasso lont cajon problemi problemi fa 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 un anno po corn corpo addormentato treni e ciao è come se fosse una specie di prolungamento di questa anestesia delle abduction mi ha provato a mia amica che ha fatto un effetto suoni metallici di nuovo collegate alla d'action ai suoni che lei sente durante questi momenti ma cosa cosa che ho provato nella mia parola finita frasca c'è anche però una straccia provata intanto l'ipoma no causa esoterica no ci hanno usato la cina finita no più alimentare più riguardo gli alimenti in parte tutto accetto qualche intolleranza lei a dovrebbe capire che intolleranze a maia con i miei tolleranze nata sono scelte posto cristo ottonocchi l'energia si è sempre riferite all'action e quindi anche a quell'impianto che abbiamo visto fa la tua sua provazione e tentano in pronto ok vediamo subito gli integratori le medicine omeopatiche se appunto hanno un effetto un effetto negativo su di lei divano affettavano che si è assolutamente il la che come o patricina allora la parola che viene pasticcio adesso non so come tradurlo nel pasticcio in questo caso messo messo a me c'è una cosa confusione mischi e chissà messa ne chissà messo a scuglio tutto e tutto posticciato ok cose cose a caso messi insieme cioè c'è un po di disordine di coerenza e vedo che la sua ps lo coglie e quindi no non l'accetta di buon grado è stata che si fa ossa scosta mi è riuscata trovate con i accettatori anni a sui moneta co a me è venuto per esempio che lui e questo naturopata e lei in un'altra vita sono stati anime affine marito e moglie trasferito c'è poi c'è la presa monitor per i primi due fami o noi c'è una troppata ma non sono lui la tradiva però al mio strato e vedo che le è rimasta anche questo senso di sì di non fiducia verso di lui un po gli vorrebbe credere però un po non gli crede e quindi anche per questo che le cose che lui gli somministrano non hanno un effetto buono pieno tra calabitiamo viaggio c'era niente come c'è qualcosa che mi ha mai ammattato quanto tecnico positiva con effetto e che ma come nel complesso io vedo che potrebbe fidarsi di più di una operatrice sempre naturale però vedo che è una donna vittorio scolari sono come in città che fa niente ogni cosa è mai stata un naturopatia vista che stanno coppia trattando dice monica con chi era ma più piccole cose più semplici che le risuonano di più ogni vita ci fa un ca unificazione lo può aggirare un po piersiani è che mi ha aumentato il foglio inclinato mi escerà solista quattro d'aritan inclinandolo verso scherzo non si veda niente niente proprio comunque capito con il margine omeopatiche quindi si si sentiamo sempre nell'ambito naturale per lei si si o ma zona 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 ok a moli e la moglie d'altizia zona e moglie che lingua semplice il polacco ok ok ci sono anche le medicine omeopatiche quindi il problema però non è la medicina in sé il problema è chi la somministra e anche la modalità se c'è qualcosa che non fluisce fra loro due problemi e santo traite sopra mente chi sa messo per tocco stop e sapi sotto e sapo da comunque secondo me oltre allora con la moglie andrebbe meglio ma io ne vedo anche un'altra di persona il fatto accettato il reggito c'è stato un intervento dei cattivi alieni cattivi nel suo passato 2020 2000 14 2002 io non si parla in avanza tamina la contact che se mi faccio la cosa di sanzo dopo c'è strato l'ultimo anno 2 e fate santa trocchino che lei sotto gli eventi sotto cosa da taxon si sono veramente tanti anni ho provato nella faccia c'è nevito a sparta fialolata ma i progetti di da taxon solitamente riguardano tutte le persone e quasi dall'inizio si citano da sette otto anni che ho provato a niente che cose con l'occhiata è un po di cinza maio mista tasto se mi dà una bandola un po sola quindi l'ideale anche un po preda non delle abduction cosa mi sento c'è stata costa moto ma ho aventi della nata cuffia era provata partiamo dal fondo cicatrici nel 2002 a causa esoterica raggiunta trucchi iacchies brisn e sì perché lì essendo secondo me anche un goccino prima avevano iniziato a fargli le abduction però lì è stato il primo impianto ho fatto come ne ho provato a nia la tua testa troppo da 300 troppo in campo fuso lì piersi in plant 2014 foto da fatte chance per nastro che che esiste in certamente stafili adesso mi è scappata quale era la foto che mi era arrivata una tromba d'aria tromba ha piaciuto qua infatti vedo che da lì che è nato questa entità mentale che io ho visto come un vortice no è legata l'amici e pensieri suicidi stampa stiamo strutturata istatamente al nato rimo felice ma sono stati mi chiamiamo non siamo vociano che la tratta di stato proveniente al tanzier 2020 le offrono aiuto lì vedi è stata una cosa subdola perché durante la sessione il tentativo era quello di liberarla e allora loro si permettono per ritornare nella vita di Ivona invece sobie di aiutanti wiec oni jakby powrócili do życia Ivony w takiej roli właśnie pomocników va bene impotente non in grado di avere una relazione con il compagno cioè non assertiva potrebbe sia nostri braga sorter nostri e questo grande progetto di subalternità e lei il suo potere lo consegna a chi le falle ad action a volte al marito a volte al naturopata fai un moto a segnata di frenza era stato il cosmetto fra franzata razzarazzo parentate come patte pesi dei suicidi l'abbiamo già visti basta memoria e bassa concentrazione ma ci sono poi torsare giri smetras problema spaventiamo in concentrazione allora sia l'impianto mentale sia anche delle emozioni che non so come dirti li affollano troppo la testa lo sarò not in palpamento che emozze creata amici a trovare cuore ansia lenky da una vita che c'è la quest'ansia fa chiamato anche e non so io la vedo anche proprio mi fa vedere due spinte opposte da un lato aveva tanta voglia magari di comunicare anche con i genitori dall'altra non c'era possibilità non c'era tempo il vito terra che deve essere stata venuta con via con hans comunicati ragazzami all'altro che strana non c'erano le circostanze giuste non era mai il momento giusto mi avevo avuto per coccolici nostri nato nei buoni dopo un momento nato quella io la vedo proprio come l'origine dell'ansia 0 8 che il hanco dice che non ha collegamento tra la testa e cuore i fanno a sferci suoniamo la montagna mentre qua fa una sorta guarda questo impianto della gola ea serve anche proprio questo a creare una specie di di blocco di di chiusura in modo che testa e cuore non comunichino in plant kart l'impianto di sticola la sua cosa blocco a fare la stessa appunto comunicarsi mente qua fa una sorta va bene portale aureo lo apriamo chiamiamo tutti gli micchi ha parlato perché abbiamo tutti i parenti di ivona ed in primis padre madre e l'amica porta 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 da smart way i metà ma metà i psa ciò che ho capito chi è non diciamo il nome allora l'amica vedo proprio che piange un fiume di lacrime vita che c'è a parte intenzione porta e le le proprie attaccata con le braccia al collo io so che sono nata mui sui non so proprio un legame forte ma io parto se non viene spiegato con non si fate più quasi sorelle ecco da un senso tiri che del fatto che vuole uscita dalla ciotto social nato terec una factor riva 9 su anni vita c'è però pare che cosa che a questo controllo delle emozioni difficile no è arrivato a un livello molto alto la sua motività il vostro oggetto però plans contro la fa niente camozzi non è che trovassimo queste camozzi bene cosa vuole dire il padre è ritornata tratta profete stata procede ok era partito all'inizio sedendo tsi sul terreno e dicendo questo è mio da qua non mi toglie nessuno però adesso a questo punto della sessione vedo che si è alzato dal terreno prima era seduto alla terra sviluppata tra si sceglieva terrasse poi lo stanno mi nota che stessi stavano mi vedendo il portale aureo è deciso ad abbandonare il terreno per andare verso il portale aureo il sabato porta la cosa detto la vostra moda c'è un dono non ci portano vedo che si avvicina sono delle farfalle intorno si avvicina ad ivona però la scena che mi presenta è che lei era una bambina video sopra colito ivone vacune con santa motel e via la vita sottista nè ivona est ma un cerco ed è come se le lasciasse questo regalo di farfalle intorno e dice grazie ricambio così quello che tu stai facendo per me adesso e cosa stava ripresa e postati tecmo telemo viso tesa ad oggi entro a scelta spazio sottopra sanctorato time o robin totta motela ok diamo questa informazione al padre anche se non ce n'è bisogno viviamo una vita con queste informazioni tutta la stai me noizzo picco che riesce al tempo gli anziani informazioni visto che era tanto attaccato quel terreno un po ne fa scopo tag parto che non sarà nato te già o che tam qualcosa presente sulla terra fa parte di un set teatrale cinematografico in cui noi giochiamo scatta la stagione saletto tra i tuoi tra un gramma e sopia quindi potrei dire che non ci appartiene prima sono presi giocatore daniela la giusta la donna potrei anche dire che non esiste e faccio quindi dire di essere molto attaccati a un terreno che non esiste e che comunque non ci appartiene e che è solo un teatro dove si fa un gioco che stanno attarando una scena vera attaccata capra test per cosa come si stanno con il film of the programma noto tra la gira 3 come reagisce la cracoia nato vedo che già aveva lasciato i suoi abiti sul terreno e davanti al portale aureo e nudo vita stanno che già 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 se volesse salutare la figlia congedandosi da lei con la creazione di un oggetto cosa le lascerebbe crediamo cosa stavi c'è torta una posa che l'anni che mi ha tozzato bevevo neri come queste farfalle sai da motel che cosa simboleggiano fa san paolo sionta motelano i giochi che non ho fatto con te va bene è già andato ho fatto a portarlo si è già andato ma tac posso una mamma ma dice sarò bevamo amata movie e ricco anche per lei che rovina spiego case la mamma mi dà come una donna che in qualche modo è stata anche lei a sua volta un po subalterna o caso io mi cerco la coppia tattora rovina sono un po tanto un po da non infatti all'inizio era un po piccina e gobba invece adesso è diventata molto grande molto imponente ma facciamo che avevo attacca ma vasculona tra sta vasta casierka con la vick ha capito qual è la sua importanza di c'è anche di persona come essere umano i geni dei pico attacca la pratica rosamia voglia catacca la testi motica copietta mi ha con istatato all'ultima come mozza che dice non basta cucinare riordinare la casa in modo di stare tra tricota facili possono cosa faccio da bisogna amare profondamente se stessi una cosa faccio più un poco cosa vuole dire alla figlia di più intimo attraverso c'era per parte detta che con interna con un po avete forza so perché le sta facendo sputare qualcosa vedo che se tipo quando uno sta per soffocare vedo che le dà una botta dietro la schiena dieta che la pianta popletta che è stato scoperto costo non sta facendo tipo vomitare sputare qualcosa il caso è il mio tovaccio tessi per progetti o ecco adesso sei leggera ti voglio tanto bene e per la scuola operazione se stessi la casa barta cieco ha vuole andare nel portale auguro anche lei mamma rosa segura ci do portalo senti mi dice di sì però è come se prendesse un'altra strada rispetto a quella che ha preso il marito sempre nel portale però muoviata accostata un testo portalo l'opera ci non trova in oltre corte non fai scattata ivona va bene la salutiamo l'amica e vedo che ci mette un po è prima di staccarsi dal collo di ivona trascosa è un abbraccio lungo e dice tanto ci rivediamo barzado che sto chiedesse un spot come buon ordine e salutiamo anche lei tarone a scelto casa con a me con queste nuove condizioni monica il terreno è vendibile c'è terra strada e si ma ivona deve continuare a fare un lavoro su di sé per calmarsi e tenersi pulita come adesso il terreno risponde a lei quindi tanto lei è più pulita e calma tanto più facilmente è vendibile il terreno e questa volta che io potete che gli sa ma gli imbargiano a vengere c'è stato bene cibo cotto cibo crudo monica i vari anni sono sicuramente solo fa lei ovviamente allora da adesso che lei è pulita potrei scegliere di alternare le due cose anche se magari lei prediligerà un po più spesso quello cotto terrasse pulita è tanto di gesta benissimo qua quella c'è me andato a stare tanto per acce che si dice temo di cosa per farci pensare per al terrasse tocco tavano aiutano però di fidarsi di quello che si sente di fare che si fidi alla cosa per farci pensare ma è tanto e atto è stato attraverso stacroppo ok andiamo con ivona al cluster se vuole da terra assistiva un accetto da amici siano da cluster abbiamo una visione completa finalmente di tutti i suoi contratti relativi al suo progetto l'entità eteriche mentali tanti cimo frascate contratti si è stato a me mentale me lo presenta come un lunghissimo blister in cui ci sono dentro sai le capsule poca sui miei cattacchi vascine brister sta black camina che mi scappso camico e mi fa vedere lei che prende questo lunghissimo blister lo mette dentro un enorme scatola e questa scatola la butta via nel portale definitivo mi piace affrescata cazzo che risultato da chiesto che questo d'euca da chiesa anche a portarlo da finita franca 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 mettiamo qui uno d'eterno come scueta crash ad eterno me la fa tipo con il bastoncino della maglia dell'uncinetto con noi che mi si tratta da pranzenta ora viene una truta che mi si è lasciato che non c'è stato rosa rosa europei è proprio in progressione no proprio come quando fai l'uncinetto che mano a mano riesci ad allargarlo sempre di più sarà che si rappresenta che conosciuta un coro per stati avuta un po senso che quando fanno avanti su d'euca taxonata torno un sacco finché avatar vediamolo buttiamo lo mettiamo una d'eterno anche qua da terra se chiamata avatar a sapato la grande roccia ma ieri tamo ad eterno mostro mi sta niente è una figura maschile con i bassi po caso riesce a votare a copposta ma un scaso sbossami c'è anche che fumava un sigaro un palazzo secaro vedo che però lei non ha più intenzione di assoggettarsi a questo dice antipatico regista i movimenti antepate c'è ancora la sera si tanto giure via lo butta proprio nel portale definitivo incluso tutta la stanza i mobili computer ha detto dunque taro fina stanni cosa che voglia d'eterno adesso sferruzza veloce veloce e fa subito la d'eterno centrino terra si parte soccose con noi ha tanto ad eterno bene c'è la vedo tutto un po frastornata di quello che è successo un po incredula perché si rende conto che non c'è più niente non le pare vero poi ripetere la frase ivona ha visto che non c'è c'è niente non lo sembra vero ok ma dove la minovania francese viaggiano stata chiesto ok messaggio finale della ps della piedi ivona iphone e consiglio su come comportarsi quando arriverà di nuovo l'ansia la difficoltà riassumere un concetto la voglia di parlare molto velocemente adesso basta con queste paure mi fa vedere proprio come le paure raggiungevano come se fosse il livello dell'acqua la bocca e mi fa vedere che questo livello di acqua che sono poi simbolicamente le paure si abbassano il po caso è un po gente di foto e lector è sempre l'uso che facete i lenchi obbini ne possiamo avere il controllo di queste paure e delle emozioni che sono associate a queste paure ma che sono amici controlla un attimino in camminato schemi emoziami che lo sono sviluppo vedo che si esercita col respiro evitano che ha fatto in funzione ha molto il partito prefetto e tontaria come dici scusa lucio di respiro sì come se imparasse a fare degli esercizi con la respirazione che l'aiuteranno molto perché cosa c'è che si tecnico davanti tra barzo e pomoco anche per la memoria l'aiuteranno rovinarista tecniche poco ma panini oltre che per tenere a bada le emozioni l'ansia e quindi l'agitazione nel parlare come con la costa stracca mostri milan camis tenta che emozionando viene ma loro finiscono come una nuova frequenza nuova vibrazia iphone e 126 dei miliardi sto facisce scelta il miliardo nuova consapevolezza poi già un scato a mostri terassi 100 scusatino 109 190 180 990 sta oggi vengono tanto ps poi c'è un progetto d'orso il 47 stardisti scena un progetto dei precedenti critica 1122 che siamo stati valista di fa percentuali di cervello il pro tanto sovana con mosco 8 e 7 8.7 o c'è una che sia tanto tanto come la vedi mi ha cambiato allora un po con gli occhi lucidi con la voglia di aprire le finestre di casa di riordinare casa di cambiare non so qualcosa dentro casa che è il riflesso della voglia di cambiare la sua vita perché facciamo forse o conoscerò con il mio sconico di schiappa smine di più scania sempre non fate la faccia occhi lucide dalle lacrime intende o lucidi lucidi no non dalla lacrima è sì per la commozione si ha sastro sciogna e anche perché riesce a vedere le cose come con occhi nuovi perché non c'è stata soffigiava scelta 9 mila tramite rossi benissimo ancora delle interferenze ci vanno a maestri che si interferenze una parola una parola che la caratterizza adesso gli è la sua volta che troviamo trasforma per scatto la sua allora la sua ps però mi dice di dire una cosa potrebbe essere che nei prossimi giorni avrà qualche dolorino tipo alla schiena eccetera di non preoccuparsi ok perché è non so come dirti nella via dell'evoluzione della trasformazione sì che quindi se lei già lo sa in anticipo non si spaventa perché sennò il rischio è che cade di nuovo credendo che la cosa non abbia funzionato è solo una fase transitoria mi è stata toccata caffa sa presto va ok disconnetti da tutto e tutti che torniamo